Musica Buonasera gentili telespettatori e benvenuti dall'edizione quotidiana di On Air News, il notiziario delle Marche. Apriamo con alcuni incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore. Un furgone adibito a pulmino che trasportava otto ragazze di una squadra di basket femminile ha urtato più volte durante la notte le pareti della Galleria Varano lungo la superstrada Valdichienti nel territorio di Serravalle. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, gli occupanti dell'automezzo sono stati trasportati all'ospedale di Camerino ma sembra che non ci siano state gravi conseguenze. Un quarantenne invece ha perso il controllo della sua vettura ad Ancona in via Vallemian ed è andato ad urtare un paio di veicoli terminando la sua corsa su di un fianco al centro della carreggiata. Il conducente è stato ricoverato a torrette con i pompieri che hanno messo poi in sicurezza la zona. Ha macerato un apolo con a bordo due giovani è andata completamente distrutta. Il sinistro si è verificato in contrada Morica ma i due ragazzi se la sono cavata con ferite di lieve entità. È di Daniele Signoraccio, un senigalliese residente a Moro d'Alba di 53 anni, il cadavere ritrovato ieri in spiaggia. A dare l'allarme sono stati due passanti che sul lungomare Marconi hanno notato un corpo galleggiare in acqua. L'uomo molto probabilmente è rimasto vittima di un malore. E cambiamo argomento molto atteso. Oggi è iniziata a Macerata il processo ad Inno Sentosegale, il nigeriano unico accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro. Non sono mancate urla e contestazioni. Sentiamo Manolita Scocco. Urla, insulti, anche un malore. Bagar questa mattina davanti al tribunale di Macerata blindato per l'apertura del processo a carico di Inno Sentosegale. Il nigeriano accusato di aver violentato, ucciso, fatto a pezzi e abbandonato il cadavere di Pamela Mastropietro in due trolley a Casette Verdini. All'arrivo di Osegale dal carcere di Forlì, un gruppo di manifestanti arrivato da tutta Italia ha iniziato ad urlare verso il nigeriano parole come mostro, assassino, prima che l'imputato fosse fatto passare dal garage interno del tribunale per raggiungere l'aula. Una giovane che stava manifestando ha anche accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Ma la tensione ha raggiunto il punto più alto quando è arrivato il sindaco di Macerata, Romano Carancini. Anche verso di lui i manifestanti non hanno risparmiato grida e pesanti epiteti che si sono tramutati in insulti quando il primo cittadino maceratese si è rivolto verso di loro chiamandoli fascisti. La richiesta di rito abbreviato è stata rigettata. Il dibattimento inizierà il 13 febbraio. La madre di Pamela, infine, ha ulteriormente confermato di non voler perdonare in nessun caso osegale. Proseguiamo con la cronaca. C'è stata una sparatoria poco prima delle 13 di oggi a Pesaro in via Gagarin, zona torraccia nei pressi di Troni dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in strada. Un furgone è stato crivellato. Il mezzo assaltato è un portavalori che doveva andare a raccogliere il contante degli incassi, circa 20.000 euro dopo il Black Friday. Il commando sarebbe entrato in azione quando l'ha detto alla Cassa Continua, aveva però già messo nel furgone il denaro prelevato al rifiuto di aprire. Con segnale loro i soldi uno dei banditi ha preso ammazzate il mezzo. Il vigilante è rimasto ferito, ma in modo non grave istituiti posti di blocco in tutta la zona. Ed agenti della questura di Ancona hanno arrestato un ladro seriale di negozi all'ennesimo colpo, questa volta i danni di una panetteria nel quartiere di Piano San Lazaro. Si tratta di un 35enne siciliano con precedenti e problemi di droga. Altri furti dello stesso genere erano avvenuti nei giorni scorsi. All'arrivo dei poliziotti l'uomo ha tentato di nascondersi nel bagno dell'esercizio commerciale, ma è stato scoperto, sequestrato un paio di tenaglie. Confrontando le immagini della videosorveglianza, gli investigatori lo ritengono responsabile di altri colpi, tra cui quello di un ristorante dove ad ottobre aveva sfondato la vetrina con una pietra e si era impadronito di circa 3.000 euro. Amatelic è stata inaugurata la terza edizione del Master in Wine Export Management. Sentiamo Sara Santacchi. È stata inaugurata nei suggestivi spazi delle cucine storiche del Museo Piersanti la terza edizione del Master di primo livello in Wine Export Management. Un corso di formazione post laurea che si propone di formare professionisti esperti in marketing del vino, nato da un'idea dell'amministrazione comunale di materica e della scuola di giurisprudenza dell'Università di Camerino, realizzato con il supporto dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e del Consorzio Vini Piceni. L'inaugurazione si è caratterizzata anche per la prima lezione del Master affidata al professor Armando Maria Corsi, docente della School of Marketing della University of South Australia, tra i massimi esperti del settore. Il terzo anno è pieno di iscritti e soprattutto la cosa bellissima è che questo Master crea posti di lavoro. L'80% delle persone, dei ragazzi che frequentano il Master trovano lavoro entro i primi quattro mesi dopo il diploma. Quindi è veramente un momento di altissima formazione ma anche di crescita di tutto il territorio. Anche perché è un Master che si occupa di Wine Export Management, cioè non insegniamo a fare il vino, insegniamo a valorizzarlo, a venderlo, soprattutto all'estero. Quindi vuol dire esportare il nostro territorio, materica in primo luogo, ma tutte le marche nel mondo. D'altronde le marche, se vogliamo, la carenza che possono avere è proprio quella di non sapersi vendere, non sapersi comunicare, quindi capita proprio a Pernello. Ma sì, noi siamo un po' in ritardo di 30 anni rispetto a altre regioni perché siamo sempre stati autosufficienti, un po' nella nostra indole, magari essere un po' chiusi, lavorare più per noi che per gli altri. È il momento di cambiare marcia, lo vediamo tutti i giorni, perché la crisi economica si affronta utilizzandola come prospettiva per qualcosa di più grande e nuovo. Ecco, cominciare a vendere il nostro territorio con le proprie specificità e le grandi qualità è sicuramente il passo giusto. Lo diciamo sempre e noi abbiamo cominciato a farlo. È stato inaugurato oggi il 683esimo anno accademico dell'Università di Camerino con il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, oltre al Capo Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli ed ovviamente il Sindaco della città Gianluca Pasqui. Occorre fare in fretta per la ricostruzione porterò a Bruxelles questo messaggio, ha detto l'esponente politico di Forza Italia, che poi ha pesantemente criticato la Regione per i forti ritardi nella gestione dell'emergenza. Ampio servizio nell'edizione di domani del nostro telegiornale. Il 10 dicembre scadono le iscrizioni per il corso di istruzione superiore per tecnico per l'integrazione delle tecnologie 4.0, sistemi web e digitali. Il corso, organizzato da Confindustria Macerata, alla quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni, ha una durata di 800 ore, di cui 320 di stage presso aziende del territorio ed è gratuito previa selezione. Obiettivo è costituire un valido bacino di professionalità, al quale le aziende potranno attingere per gestire processi produttivi sempre più automatizzati ed interconnessi. Domani mattina, in una conferenza stampa, verranno illustrati scopi e finalità. E si è chiuso ad Ancona il congresso Hot Topics in gastroenterologia, che ha celebrato il ventennale. Vediamo. Ancona, ospitato venerdì e sabato scorsi presso l'Università di Medicina e Chirurgia, la ventesima edizione del congresso Hot Topics in gastroenterologia. Si sono discusse le numerose novità nel campo delle malattie dell'apparato digerente con i maggiori specialisti italiani in condivisione con i medici di Medicina Generale. Tra le tematiche trattate la malattia di Crohn e la retocolitulcerosa, le malattie croniche del fegato, il trapianto di fegato e le innovazioni recentissime nel campo della fisiopatologia ed endoscopia digestiva. Siamo sempre molto attivi perché abbiamo due ambiti veramente molto vivaci dal punto di vista diagnostico e terapeutico. L'ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali, parliamo di Crohn, e colitulcerosa dove negli ultimi cinque anni abbiamo almeno dieci molecole che hanno cambiato realmente la storia naturale e soprattutto la terapia di queste forme, che oggi sono molto più gestibili di quelle che erano un tempo. L'altro momento è quello proprio delle malattie del fegato e in particolare soprattutto del fegato cosiddetto grasso, quindi nell'ambito della sindrome metabolica. Negli anni precedenti parlavamo soprattutto dei nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C. Fortunatamente questi nuovi farmaci hanno fatto sì che l'epatite C si stia realmente eradicando e oggi parliamo soprattutto di situazioni metaboliche, quali appunto il fegato grasso che rientra nella sindrome metabolica. Questo è molto importante perché in questa azienda ospedaliera università abbiamo il centro tra pianti di fegato, che è sicuramente l'unico centro tra pianti di questa zona del centro Italia, che funziona molto bene e che ci ha permesso di avere quel tassello che 15 anni fa all'apertura del centro tra pianti mancava e che dà la possibilità in realtà di una gestione e di una prognosi migliore per questi pazienti. Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito a terapie antivirali per l'epatite C e l'epatite B che sono molto regrediti come incidenza sia nel nostro territorio marchigiano che a livello nazionale. Quindi si parlerà un po' di una nuova epidemia dei malattie di fegato legate alla malattia del benessere, all'obesità, al diabete, alla disepidemia che è rappresentata dalla steatose epatica. La novità degli ultimi anni è che questa steatose epatica può evolvere verso la cirrosi e il cancro del fegato. Quindi si parlerà molto di questa condizione, soprattutto in una tavola rotonda che vede tutti gli specialisti coinvolti, cioè parlo dell'endocrinologo, del diabetologo, del cardiologo, medici di medicina generale che devono fare un'opera molto importante perché questa forma di steatosi potenzialmente evolutiva interessa il 25% della popolazione generale. Apriamo l'ampia pagina sportiva di oggi. Dopo esserci occupati di calcio nella diretta di ieri, ora vediamo cos'è successo nel basket e nella palla a volo. Prosegue il momento positivo della VL Pesaro che nel superclassico di Serie A è riuscito ad avere la meglio sui tradizionali avversari della Virtus Bologna sul filo di lana. 89-86 ancora trascinata da McCree che si sta imponendo all'attenzione generale come uno dei migliori giocatori del campionato. Le sofferenze delle stagioni scorse sembrano lontane. La classifica sorride ai Biancorossi in zona playoff con quattro vittorie ed altrettante sconfitte in coabitazione con gli stessi Felsini e l'Alma Trieste nel prossimo turno trasferta ad Avellino. In a due splendida performance della Termoforge Iesi che batte Udine con un'eccellente prestazione di squadra con Rinaldi sugli scudi e di giovani rampolli di coach Cagnazzo che hanno giocato senza alcun timore reverenziale contro un roster blasonatissimo. Non è andata altrettanto bene invece all'XL Extra Light Monte Granaro al terzo cappò consecutivo battuta in casa dalla De Longhi Treviso 81-85. Non è bastato un Corbet stellare 33 punti ma l'intensità difensiva non è stata all'altezza. Ricordandovi la telecronaca stasera alle 20.15 sul Canale 11 andiamo a sentirci l'intervista di Lorenzo Ottaviani proprio con il play americano della compagine giallo-blu. La Marshall Corbet è una tua grande partita ma non è bastata per vincere questa partita. Cosa è mancato alla vostra squadra? È mancata la difesa e l'esecuzione e sicuramente abbiamo bisogno di essere più fiduciosi in noi stessi più sicuri di noi stessi e ricominciare a giocare come sappiamo. Non mi interessa aver segnato 33 punti mi interessa che abbiamo perso ma mi interessa vincere le partite la mia prestazione individuale e soprattutto se perdiamo mi importa poco. Ultima considerazione era lo step da fare contro Fortitude e De Longhi per rendersi conto a che punto è la poderosa che risposta si è avuta dal campo secondo te? Sono stati test molto impegnativi sono stati la pallacanestro che si giocare nei play-off e credo che comunque abbiamo dimostrato di poterci essere e abbiamo fiducia perché siamo una squadra in netta crescita. In Serie B sempre di basket vincono invece Senigalli ed Ancona mentre nette le battute d'arresto per Porto Sant'Elpidio e Civitanova. Nella pallavolo proprio mentre stiamo andando in onda è iniziata l'avventura della Cucine Lube nel mondiale per club in Polonia. A Ploc la squadra di coach Giampaolo Medei sta affrontando lo Scrab Elciotov mentre domani ci sarà l'ostacolo Zenit Kazan con l'ex Modena Ngapè e giovedì l'altra squadra russa del Novi Urengoi. Manca Perugia a questa competizione quindi per i bianco-rossi l'occasione davvero preziosa per cercare di portare a casa un trofeo comunque molto ambito l'altra franchigia italiana quella dell'Itas Trentino è nell'altro girone. Ed ora andiamo a vedere quali saranno le previsioni meteo per martedì 27 novembre. Quanto è grande il tuo desiderio? Moplan Arredamenti lo sa perché ha tutti gli strumenti per realizzare la tua casa su misura grazie alla moderna e qualificata falegnameria interna. Nello showroom più di 1000 metri quadri completamente rinnovati per cucine, soggiorni e divani. Fino al 31 dicembre offerte speciali su tutti i nuovi arrivi rateizzazioni fino a 20 mesi a tasso zero. Una casa su misura anche delle tue tasche. Moplan Arredamenti Castelplanio Ancona Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Previsioni per martedì 27 novembre. Al centro rovesci piuttosto diffusi sia sulle regioni peninsulari sia sulla Sardegna. Rischio di locali nubi fragili sulle marche. Fenomeni in via di attenuazione entro la nottata. Temperature sostanzialmente stazionari e i valori minimi infatti saranno compresi tra lo zero e i 14 gradi. Per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 14 gradi al nord e anche al centro e fino a 18 gradi al sud. Nel massimo campionato femminile sempre di palla a volo nulla da fare per la Lardini Filottrano contro le campionesse d'Italia della Imoco Conegliano. Al Palabaldinelli senza la Dijuli in panchina per un problema al ginocchio c'è storia solo nel primo parziale. Poi la compagine dell'azzurra Miriam Zilla prende il largo e chiude con facilità. Ina due maschile triste di successi per Mengi Schuss Golden Plus Potenza Picena e Videx Grotta Zolina che quindi migliorano sensibilmente la propria graduatoria. Una notizia di atletica prima di chiudere 600 podisti hanno preso parte alla sesta edizione del cross della Valmusone gara valida come selezione per gli europei del 9 dicembre in Olanda. Da segnalare il secondo posto della portacolori dell'Avis Macerata Elisabetta Vandi nella due chilometri. La gara maschile invece è stata a pannaggio di Daniele Meucci. Con questo è tutto grazie per averci scelto appuntamento a domani.